Il pomodoro pelato viene poi cubettato e il cubetto di pomodoro dopo sgrondatura, dopo sgocciolamento e separazione dai semi diventa l'ingrediente base per il prodotto pomodorina che è un sugo pronto, preparato a stagione. Il cubetto di pomodoro viene poi trasferito alle bacinelle di raccolta e da lì viene formulata la pomodorina con l'aggiunta di altri ingredienti come sedano, carota, cipolla, basilico, salvia, sale, zucchero e olio. In questo modo si mette a soffriggere la verdura con olio a cui viene poi aggiunto il cubetto di pomodoro e un succo concentrato, preparato di fresco di pomodoro. Si lascia scaldare portando a 80 gradi circa. Il prodotto poi è pronto in questo modo per essere dosato in scatola. Il dosaggio avviene come fase immediatamente successiva alla preparazione e anche quindi la successiva chiusura della scatola. Il prodotto ovviamente non si conserverebbe se non subisse un minimo trattamento termico di pastorizzazione attraverso tunnel di pastorizzazione con sgocciolamento di acqua a 99 gradi per un tempo relativamente breve, sia la pastorizzazione quindi anche la cottura del pomodoro perché di fatto il cubetto era crudo quando noi l'abbiamo preparato in bacinelle. Dopo raffreddamento, terminato il ciclo di pastorizzazione, il prodotto viene confezionato e messo in magazzino. Dopo un adeguato tempo di quarantena il prodotto è pronto per la spedizione.